Ciao e bentornati su Ciacchiazione, io sono Valerio Novara. Per capire chi fosse Jeffrey Dahmer dobbiamo tornare per un attimo alla sera del 23 luglio del 91 quando gli abitanti di un piccolo quartiere periferico di Milwaukee vengono svegliati dal via vai della polizia che porta fuori una serie di sacchi e bidoni da un piccolo appartamento. In quei sacchetti di plastica ci sono quattro teste mozzate, sette teschi, due cuori umani e una porzione di muscolo del braccio. Nel congelatore della cucina gli investigatori scoprono poi un intero busto più una serie di organi umani e carne attaccata al ghiaccio sul fondo del frigorifero. Dalla casa esce un uomo e è ammanettato, il suo nome è Jeffrey Dahmer. Nato il 21 maggio del 60 da una famiglia della classe media a Milwaukee e un ragazzo all'apparenza sereno. Sebbene sua madre Joyce fosse una donna con diversi disturbi mentali e il matrimonio dei suoi genitori fosse tutt'altro che felice Jeffrey crebbe in un clima tutto sommato normale, senza mai essere vittima di violenza di ogni sorta. Fin da piccolo fu affascinato da tutto ciò che riguardava la morte e iniziò a raccogliere le carcasse di animali morti dalla strada. Suo padre Lionel lo definì stranamente elettrizzato dal suono delle ossa che venivano segate. In adolescenza la famiglia Dahmer si trasferì in un sobborgo di Akron in Ohio. Lì Jeffrey iniziò a fare i conti con la sua sessualità, rendendosi conto di essere omosessuale. Tuttavia crebbe in una famiglia estremamente religiosa e questo gli impedì fin da subito di vivere in modo sereno le sue tendenze sessuali e iniziò quindi a reprimere i suoi impulsi. Fin da subito si manifestarono in modo decisamente estremo e insolito. Jeffrey per esempio fantasticava sullo stupro, sulla violenza sessuale e sull'avere il controllo totale di un corpo maschile. Si isolò sempre di più all'interno della società scolastica e ancora prima di finire il liceo era già un alcolizzato. L'anno in cui si diplomò i genitori si separarono e Jeffrey rimase a vivere da solo con la madre. Il giovane si trovava spesso a casa da solo, anche prima che sua madre decidesse di abbandonarlo definitivamente. In una delle occasioni nelle quali aveva a disposizione la casa tutta per sé, iniziò la catiera criminale di Jeffrey Dahmer. In strada caricò l'autostoppista diciottenne Stephen Mark X che stava andando a un concerto rock nei vicini Lockwood Corners. Lo convinse ad andare a casa sua per un drink prima dello spettacolo. Dopo ore trascorse a bere e ascoltare musica, X tentò di andarsene mandando su tutte le furie Dahmer che lo colpì in faccia con un manubrio da allenamento e lo strangolò a morte. Iniziò con X anche a manifestare le sue tendenze necrofile. Jeffrey spogliò il giovane e si masturbò sul suo cadavere senza vita. Per nascondere le prove decise infine di sezionarne il corpo. Tolse le ossa dal corpo del giovane, le ridusse in polvere, le seppellì e sciolse la carne nell'acido. Dopo questo omicidio Jeffrey Dahmer tentò di reprimere i suoi impulsi e per nove anni non commise altri omicidi e tentò di vivere in un modo abbastanza normale. Frequentò la Ohio State University che tuttavia lasciò dopo un trimestre a causa dei suoi noti problemi con l'alcol. Servì anche come medico da combattimento nell'esercito degli Stati Uniti per due anni prima che il suo alcolismo diventasse un problema, portandolo al congedo. Dahmer andò poi a vivere con sua nonna in un sobborgo di Milwaukee. Qui il giovane non uccise per diversi anni, tuttavia non rimase lontano dai guai legali. Commise infatti numerosi crimini sessuali tra cui masturbarsi davanti ai bambini o drogare e violentare uomini negli stabilimenti termali gay. Tentò di placare i suoi impulsi con stratagemmi come rubare un manichino da un negozio di vestiti e usarlo ai suoi malati scopi nel suo letto. Questo però venne gettato via da sua nonna e lui riprese ad uccidere. A settembre dell'87 Dahmer tornò all'omicidio uccidendo il 25enne Stephen Uomi. Jeffrey incontrò la sua vittima in un bar e lo convinse ad andare in albergo con lui. Il killer in seguito affermò che aveva solo intenzione di drogare e violentare l'uomo, ma che non aveva intenzione di ucciderlo. Tuttavia sbagliò il dosaggio del sonnifero e la mattina dopo si svegliò trovando la sua mano contusa e il cadavere insanguinato di tuomi sotto il suo letto. Da questo momento in poi Jeffrey Dahmer non si sarebbe più fermato. Iniziò a cercare giovani nei bar gay e ad attirarli a casa di sua nonna. Lì li avrebbe drogati, violentati e uccisi. Almeno tre delle sue vittime sono fatte risalire a questo periodo, al termine del quale finì per la prima volta in carcere. Venne poi arrestato per aver molestato un ragazzo di 13 anni. Per questo scontò otto mesi in un campo di lavoro. Tuttavia l'idea di uccidere lo consumava. Era un desiderio incessante e senza fine di stare con qualcuno a qualunque costo, avrebbe poi detto Dahmer in un'intervista successiva. Qualcuno di bell'aspetto, davvero carino, diceva lui. Questa cosa riempiva i miei pensieri tutto il giorno, mi consumava da dentro, rivelò. Da questo momento iniziò anche a collezionare i trofei delle sue vittime. Questa pratica iniziava con l'omicidio di un aspirante modello di 24 anni, di nome Anthony Sears, conosciuto poco prima in un bar gay, appunto. Dopo averlo portato a casa, Dahmer lo drogò, violentò e infine strangolò. Jeffrey conservò la testa e i genitali della sua vittima in barattoli pieni di acetone. Dopo essersi trasferito in un appartamento nel quartiere nero di Milwaukee, il killer portò con sé i pezzi smembrati di Sears e conservò la sua testa mommificata in frigo. Nei due anni successivi commise la maggior parte dei suoi 17 omicidi, il tutto attraverso lo stesso modus operandi ormai consolidato. Attirava i giovani a casa sua, offrendo loro spesso dei soldi per posare nudi prima di essere narcotizzati e infine ucciderli. Dahmer conservava regolarmente i teschi delle sue vittime come trofei, con i quali adornò un altare che aveva dedicato a Satana. Iniziò anche a sperimentare varie tecniche per preservare questi corpi e iniziò lì a praticare il cannibalismo. Anche questo non bastava. Jeffrey tentò di creare una sorta di zombie umano, un cadavere vivo che rimanesse con lui senza mai abbandonarlo. Per questo decise di provare a trapanare il cranio della vittima e di versare nel cervello acido cloridrico. Così facendo sperava di far cadere la vittima in uno stato permanente di sottomissione totale. La vittima più eclatante alla quale tentò di riservare questo trattamento fu Conerac che Jeffrey Dahmer incontrò quando aveva solo 14 anni fuori da un negozio di liquori, ignaro che fosse il fratello di Sonsac che aveva molestato nell'88. Il serial killer lo invitò ad andare nel suo appartamento per qualche drink, promettendogli 100 dollari se si fosse fatto scattare qualche foto. Una volta in casa però Jeffrey lo drogò, gli scattò alcune fotografie e poi condusse il suo magabro esperimento. Dopo aver concluso il suo lavoro con trapano e acido lasciò l'edificio per comprare dell'alcol mentre Conerac fu in qualche modo in grado di riprendersi e scappare addirittura. Il giovane è sceso in strada dove fu trovato nudo e barcollante dalla vicina di Jeffrey, Cola Stiles. Il killer tornò poco dopo e chiese a Cola di restituirgli il ragazzo. Jeffrey affermò che Conerac fosse solo un amico troppo ubriaco, che non si ricordava dove fosse. Tuttavia la sua versione cambiò dopo l'arrivo degli agenti di polizia. Dahmer disse loro che Conerac era il suo amante 19enne che era fuori di testa a causa dell'alcol. Nonostante l'incredulità degli astanti, la polizia credette alle parole di Jeffrey e scortò la coppia nel suo appartamento. Qui, dopo aver ispezionato in modo superficiale l'appartamento di Dahmer, senza neanche accorgersi di un cadavere presente nella stanza da letto, se ne andarono. Poco dopo, il ragazzo, il povero malcapitato, venne ucciso. Il 22 luglio del 91, Jeffrey Dahmer trovò la fine delle sue avventure criminali, dopo aver adescato Tracy Edwards, 32 anni. Come fece con molte delle sue vittime, il killer offrì a Edwards dei soldi per posare per alcune foto di nudo nel suo appartamento. Con shock del giovane, Dahmer lo ammanettò, e lo minacciò con un coltello dicendogli di spogliarsi. Tuttavia, in un attimo di distrazione del suo aguzzino, Edwards riuscì a fuggire in strada e a trovare una pattuglia della polizia e a tornare a casa da Jeffrey, dove finalmente il cannibale venne arrestato. Dopo un'ispezione attenta, gli agenti trovarono quattro teste mozzate in cucina e un totale di sette dischi, molti dei quali dipinti. Nel frigo erano presenti numerose parti del corpo, tra cui, come dicevamo all'inizio, due cuori umani. Nella camera da letto, un barile industriale da 215 litri, dal quale fuoriusciva un odore nauseabondo. Quando lo aprirono, trovarono tre torsi umani smembrati che si stavano dissolvendo nell'acido. L'appartamento era pieno di cose tante parti del corpo umano conservate e sistemate con cura, che il medico legale in seguito dichiarò era più come smantellare il museo di qualcuno che una vera e propria scena del crimine. Nonostante le infermità mentali di scontrare da vari psichiatri, Dahmer fu dichiarato capace di intendere di volere. Venne condannato a 15 ergastoli, uno per ogni vittima accertata in Wisconsin, da scontare al Columbia Correctional Institution dello Stato, dove non esiste però la pena di morte, altrimenti ci sarebbe stato sicuramente condannato. Il primo anno di Dahmer in carcere fu tranquillo, fu tenuto con il suo consenso in isolamento, riducendo al minimo l'impatto della sua presenza sugli altri detenuti per la propria protezione e sicurezza. Dopo un anno da solo divenne però il requieto. Secondo quanto riferito, disse ai membri della famiglia che non gli importava cosa gli fosse successo. Essendosi convertito al cristianesimo durante la sua incarcerazione, era pronto a pentirsi e a incontrare il creatore. Quindi Dahmer lasciò l'isolamento e si unì alla prigione insieme agli altri detenuti. Ebbene, il 28 novembre del 1994, un altro detenuto condannato all'ergastolo di nome Christopher Scarber, picchiò a morte il cannibale con una sbarra di metallo nel bagno della prigione. Secondo l'assassinio, Jeffrey Dahmer non reagì né emisi alcun suono durante l'attacco, ma sembrò accettare inerme il suo destino. E quella è la fine di Jeffrey Dahmer. Io spero che il video vi sia piaciuto e che la storia dietro alla serie TV Netflix che sta facendo molto successo, rimasta molto fedele a com'era la storia vira del protagonista, che abbiate apprezzato sia la serie che la vera storia dietro a questo acclamato prodotto di Netflix. Io vi saluto e vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirci su Chuck Reazione sulle nostre pagine Facebook e Instagram.